Per i trovati dall'ippodromo del Mediterraneo, sabato 16 marzo, come di consueto, si ritorna in pista con il galoppo per il programma valido per la undicesima giornata. Un convegno che avrà chiaramente gli occhi puntati sulla prova principale, sulla condizionata premio Tunisia, dove i soggetti di 4 anni ed oltre saranno impegnati sui 1.100 metri della pista piccola. Due handicap discendenti da 6.600 euro a far soprattutto da contorno, ma ad aprire il premio Albania, proprio un handicap discendente per cavalli di 4 anni ed oltre. 6.600 euro, come dicevo il Monte Premi, il doppio chilometro della pista sabbia e la distanza, il tracciato da affrontare per i 9 cavalli al via. La base dello schieramento potrebbe essere Prisoner of Love, cavallo esperto, cavallo regolare, cavallo che in sabbia esalta tutte le sue potenzialità. Le alternative principali, American Pie, il Top Weight, Alterna, ma sicuramente ha affrontato altre categorie, quindi troverebbe un contesto alla sua portata, nonostante i chili, De Bisognosi non ha fatto male al debutto a Siracusa, finisce terzo in un buon handicap, chiaramente oggi paga in perizia e prova il tracciato di pista sabbia. Se dovesse adattarsi e se conferma soprattutto la buona impressione d'estata al debutto sul tracciato, potrebbe essere ancora della partita. Tra gli altri, Yel Sara, cavalla molto duttile, cavalla che fa molto bene sulla distanza e sul tracciato, almeno così è stato in passato, però un punto interrogativo lo poniamo sulla condizione perché rientra da ottobre. E allora lo chiediamo proprio al Fantino Daniele Scalora che la monterà. La cavalla sta rientrando, viene da uno stop, speriamo di un bel rientro. Un po' carica al peso, però vedendo lo schema di corsa sono messi tutti là perché il Top Weight ha 64, il Light Weight e lei 61,5. Il cavallo che spicca in questa corsa secondo me è il 5 Prisoner of Love, che è un cavallo che sta correndo molto bene. Ha corso bene l'ultima volta in erba, però lui in sabbia ha un finale molto migliore. Poi ho visto correre bene questo cavallo, dei bisognosi. Do molto fiducia al compagno di allenamento, Coscov, perché secondo me in questo handicap conterà tanto. Proseguiamo con il premio Libia, un handicap discendente ancora, 6.600 euro. Il Monte Premio ci sono questa volta i tre anni in pista, sui 1.200 metri della pista sabbia. Si potrebbe partire, la carta dice questo, dai primi due dello schieramento, Lady Zoe e Diego Spirit. Lady Zoe è una cavalla molto caratteriale, ma fresca di successo, una cavalla di buoni mezzi. Diego Spirit, altro soggetto duttile, che corre molto bene e in questo campo partenti potrebbe essere chiaramente tra i papabili. Poi per la terza moneta ci potrebbero provare Alba Del Milo, che corre sotto i colori e il training di Antonino Rubbera per la prima volta. Ancora Sweet Passion alla terza apparizione sul tracciato. Un po' più impegnativo è il compito per gli altri, ma chiediamo ancora a Daniele Scalora cosa ne pensa, soprattutto in questa corsa in cui lui ritorna in sella alla bisbedica Lady Zoe. Sì, la cavalla vince bene l'ultima, era un contesto molto più scadente di questo. Secondo me la cavalla può correre molto bene, il cavallo da battere sia il 2, Diego Sprint, che l'ho visto in sabbia, ha un bel riferimento al rientro, finisce secondo dietro a un buon cavallo. Secondo me guadagnando un chilo sia il cavallo da battere. Lady Zoe, secondo me, se lei è ingiornata può lottare anche per il successo. Premio Grecia, handicap di minima, terza corsa in programma, quattro anni ed oltre, al via sui 1500 metri della pista piccola, prova bella con diverse chiavi di lettura. Potrebbe mettere tutti d'accordo però Mythical Mill, soggetto di buoni mezzi, soggetto che ha militato in altri contesti e di recente corre bene e quindi potrebbe candidarsi al successo. Insieme ad Esprit d'Argent, legata da linea diretta a una femmina d'Avana Gold, proprio al grigio di Antonino Cannella, sconta il peso, il recente successo sulla distanza, Esprit d'Argent, ma è attesa comunque in ulteriore progresso e va menzionata. Buratino Dancer vince, un po' sorprendendo proprio all'ultima uscita, se dovesse riconfermarsi potrebbe essere ancora della partita. E poi Wild Acclaim ci potrebbe riprovare con 50 kg, apparso in progresso all'ultima, finisce proprio secondo a Buratino Dancer. Daniele Scalora ci parla di Grif Drichat, cavallo che fa bene a dicembre in un buon handicap, meno convincente il ritorno in pista e chiediamo a Daniele Scalora il perché. Sì, lui è un cavallo molto caratteriale, la mattina non fa vedere niente, però secondo me quella corsa di rientro l'ha portata avanti. Un po' carica al peso, 64, però il cavallo può correre bene. Mi piace Medical 1000 perché è uno specialista di questi handicap e poi mettiamo Buratino Dancer perché l'ultima volta vince bene e è fresco di vittoria. Vendere aperta in programma per la quarta del pomeriggio, premio Bielorussia, 4 anni ed oltre sui 1100 metri della pista piccola. Il pronostico potrebbe partire dal top weight, early target, cavallo che scende a vendere. C'è da dire che la forma non è brillante, giustamente però rende chili a tutti. È un cavallo protagonista o chiaramente in contesti più impegnativi e quindi vale ancora la prima chance. Firenze sogna l'ultima da cancellare ma è molto scarica e nel contesto potrebbe saltarsi. Jets Rhapsody, escludendo l'ultima, ovviamente tralasciando il suo carattere, è un cavallo che ci potrebbe stare nella terna. Stavo pensando a te, soggetto che rientra, punto interrogativo sulla condizione, ma se dovesse essere già sulla buona strada è un cavallo che è accorso bene in contesti più importanti. Curiosità per il debuttante sulla pista Pretorianus, cavallo che ha una corsa in carriera a Napoli, un buon secondo posto in una corsa a Maiden, rientra comunque da diversi mesi di stop e quindi ovviamente condizione e adattabilità al tracciato da valutare. Daniele Escalora sarà in sella intrepido romano, cavallo che rientra da luglio. Sentiamo cosa pensa. Guarda, il cavallo doveva rientrare un mese fa, è stato un po' riettoso alle gabbie, è stato allontanato perché non rientrava. Speriamo che domani si comporti bene e faccia un bel rientro. Certo, è una vendita molto aperta, è l'Italia che è il cavallo da abbattere. Poi abbiamo Firenze-Sogna, una cavallina che è molto scarica e secondo me con questo peso può correre bene. Stavo pensando a te, è un cavallo molto pronunciato, secondo me è una bellissima vendita. Lui lo mettiamo come sorpresa, però i cavalli da abbattere sono early target, stavo pensando a te e Firenze-Sogna. Siamo giunti alla prova principale del pomeriggio, il premio Tunisia, la condizionata dal monte premi di 11.000 euro, 4 anni ed oltre, si va ancora su una distanza molto breve, quella dei 1100 metri della pista piccola. Sono in 5 al via e qui Zair Zulema potrebbe essere chiaramente la base, dopo soprattutto l'ottimo rientro, quando vince benissimo in condizionata sui 1200 metri e oggi addirittura questi 1100 metri potrebbero fare ancora meglio al caso suo. Le alternative più tangibili, la scuderia Cuscheri ne schiera due, Snorkeling e Camon Captain. Snorkeling sulla velocità è uno specialista e quindi magari parte con il favore nei confronti di Camon Captain, quindi del compagno di scuderia, che resta un cavallo che corre molto bene, un cavallo che si adatta alla velocità, però forse, dicevo rispetto a Snorkeling, gradirebbe qualche centinaia di metri in più. Dreampainter è un cavallo duttile, ma è un cavallo che in sabbia avrebbe avuto un'altra chance di riferimento a questi, e poi Ed Geong, altro soggetto che non potrebbe, o comunque potrebbe gradire una distanza un po' più lunga. Daniele Scalora ci dà il suo parere da voce fuoricampo. Guarda, questa è una condizionata molto facile da pronosticare, la cavalla da battere è il 5 e 0 in Zulema, perché rientra, anche se c'aveva 52, però vince bene. Secondo me 1.100 distanza ideale, il cavallo che farà l'accoppiata sarà il 4 di Snorkeling, il grigio è specialista della velocità, l'ultima volta si corre, però era su una distanza di 1.500, secondo me 1.100 è la distanza ideale per lui, secondo me sono tutti e due i cavalli, perché se mettiamo come in Capitan sta correndo bene, però 1.100 è un po' corta, Dreampainter in Erba non è il cavallo che è in sabbia, e Age Hog secondo me è un cavallo che ama qualche metro in più, perciò la linea diretta sono 5 e 4. Si chiuderà con una vendera il premio Cipro, 3 anni al via sulla distanza selettiva dei 2.300 metri della pista grande, sono in 5 al via. Sicilian Jewel, leggendo la carta, potrebbe essere il favorito tecnico della corsa. Le alternative migliori, Golden Hour Force, che vince bene un handicap sui 2.100 metri, se si ripete, potrebbe provare a dare filo da torcere al compagno di training, quindi Sicilian Jewel, e poi l'allenatore Scalora schiera anche positive result, anche lui coscianze, soprattutto dopo il rientro, che lo vede in netto progresso. Novità sul tracciato fast and moment, sulla carta è un soggetto che ha affrontato sempre distanze più brevi, e poi ritorna ad allungare Elegant Galaxy. Daniele Scalora ci parla di Golden Hour, ci fa ancora una volta il suo pronostico. Allora, in questa corsa è un mondo Golden Hour, la cavalla vince bene l'ultima volta un handicap, certo oggi vorrà vendere, guadagna i chili perché il cavallo da battere è un po' carico per le somme vinte, però secondo me Sicilian Jewel è il netto favorito in questa corsa, secondo me è un cavallo che sui pronostici è il cavallo da battere. Mettiamo Golden Hour come seconda, positive result, il cavallo viene da un rientro, però è un cavallo che può correre bene. Non mi resta che ringraziarvi per averci seguito e quindi vi rimando l'appuntamento a sabato 16 marzo all'Ipodromo del Mediterraneo con la prima corsa prevista alle ore 16 e 25. Arrivederci. Grazie a tutti.